La grande capacità di isolarsi, di tenere fuori tutto il resto, di non lasciarsi condizionare, è l'abilità di un Brindisi che, con il Grumentum, prende un punto importante contro una squadra più viva che mai e probabilmente più vivace di quello che ci si sarebbe potuto aspettare. Il Grumentum gioca una partita di grande voglia, sbaglia qualcosa di troppo nell'area avversaria e il Brindisi, per nulla distratto da quello che succede fuori dal campo, tiene botta e prende un punto. Diversi applausi, un rammarico inevitabile per due motivi. Intanto perché il gol di Turea è l'uso e Biancazzurri che avrebbero potuto reggere botto fino al 45esimo e mettere un po' di pressione all'avversario in una ripresa che sarebbe stata ovviamente diversa. Una considerazione che crea amarezza. Nell'arco dei 90 minuti più Grumentum che Brindisi, ma nelle folate la forza d'impatto di Ancora e Compani si è vista tutta. Ciullo riparte da qui ed ha la grande capacità di isolare i propri ragazzi. Il siparietto finale, spontaneo, con il presidente Vangone accanto, restituisce anche un pizzico di tranquillità in più. Sacro santo, giusto, inevitabile lo sfogo del tecnico sabato mattina. Adesso però c'è la promessa del presidente, le cose si sistemeranno, i problemi saranno risolti con nuovi innesti in società. Dall'altra parte però c'è un Brindisi che si isola, tiene fuori tutto il resto, non si lascia condizionare e avvicina la salvezza. Vi sembra poco?